Ci sarebbe una prima apertura alla visita del pontefice in Russia da parte dell'ambasciatore in Vaticano, Alexander Avzeev. In ogni situazione internazionale il dialogo con Francesco è importante, per Mosca ha affermato il diplomatico, Bergoglio è sempre un compagno gradito e un interlocutore desiderato. Di parere contrario alla visita, l'ideologo ispiratore di Putin, Alexander Dugin, era necessario pensare a quando i cattolici sostenevano la russofobia tra i uniati ucraini, uno dei numerosi fattori che hanno portato all'attuale conflitto.